Se è vero, come è vero, che il nostro cervello non prende contatto direttamente con le cose ma attraverso le loro immagini. E se è vero, come è vero, che questo capita anche agli altri esseri viventi ma che hanno occhi e cervelli diversi dai nostri, c'è da domandarsi come appariranno i paesaggi alle api che vedono gli ultravioletti e noi non li vediamo. E come appariranno i quadri di paesaggi alle api che vedono gli ultravioletti li vedranno velati di ultravioletto e chissà cosa vorrà dire. E ancora, come appariranno le veline tutte bionde e depilate agli occhi di un mandrillo assatanato.